Ciao a tutti, questa sera voglio presentarvi un ordine Feltrinelli che mi è arrivato ieri. Arrivederci Tirano, in edizione Blu-ray, film della Koch Media, attualmente nota come Plion, storia d'amicizia e di un viaggio intrapreso da Tirano, che potete vedere qui a destra, un tirannosauro che non caccia prede e ha paura del buio, e Poonon, un cucciolo di Tenerodonte, che vedete qui a sinistra, che non sa volare. I due insieme effettueranno un viaggio verso il Paradiso, una terra magica e misteriosa. Film nippo-coreano del 2018. All'interno della confezione anche una spettacolare cartolina da collezione.